Ciao a tutti ragazzi, sono Akrad, benvenuti in questo nuovo video. Raga, come potete vedere è sera perché sono l'undici e mezza, è da poco finita la Champions e domani c'è l'Europa League, per cui pronostici di Europa League. Andiamo a vedere la quinta giornata. Magabi Haifa, Ren 1-3, è diventata 0-3. Stumgrads, Rakov 2-0, è diventata 0-1. Atalanta Sporting 2-1, è diventata 1-1. Sparta-Praga, Betis 1-1, è diventata 1-0. A Capotele-Nembrado, 0-1, è diventata 0-1. Topola-Westem, 0-3, è diventata 0-3. Frippola-Olimpiakos, 2-1, è diventata 5-0. Akanal-Navirikos, 0-2, è diventata 0-2. Molde-Karambag, 1-0, è diventata 1-0. No, è diventata 2-2. Sheriff, Selea-Praga, 0-3, è diventata 2-3. Servette-Roma, 0-4, è diventata 1-1. Annaggia. Molde-Karambag, 2-0, è diventata 3-2. Toulouse-Unius-Sangelo, 2-0, è diventata 0-0. Liverpool-Hask, 4-0, è diventata 4-0. Rangers-Limas, 2-1, è diventata 1-1. Molde-Karambag, 2-1, è diventata 4-3. Facciamo la sesta giornata. Karabag-Akan, per me, finirà 1-0. L'Avergouzion-Molde, per me, 2-0. Toulouse-Praga, Servette. Prima è che ha del miracolo. L'Avergouzion-Molde, che non serve l'Avergouzion-Molde, è che la Roma vince con 5 gol di scarto. 5-0. Pan-Akinaitos, Hb-Alfa. Prima è che la Roma vince con 5 gol di scarto. L'Avergouzion-Molde, 0-0. Rennes, Villarreal, South, si verificano. Il contrario, c'era Villarreal, 0-1. Lask, Toulouse, 1-2. L'Avergouzion-Molde, Liverpool, 0-2. Anzi, no. Non ho, anzi, a sorpresa non c'è la Lugna, non vogliamo. Rakov-Atalanta, 0-1. Anzi, no, 1-1. Comunque, ho letto che Gasperini portò solo 8 giocatori della prima squadra, i 15 dell'Under-23, per cui 1-1 per me finirà in pregio. Sporting-Stumgrads, vincerà allo Sporting, 1-0. Limeso-Sparta-Praga, 0-1. Pettis-Rangers, 1-0. Brighton-Barsilia, 2-1. Ajans-HP-Tene, 2-1. Olimpiaco-Sparta-Praga, 2-0. E questa è Friburgo, 2-1. E se qua, ragazzi, sono i miei pronostici di Europa. Fatemi sapere i vostri posti qui sotto nei commenti. Lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella. E noi ci vediamo, come sempre, con un nuovo video. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Grazie.